La globalizzazione non era fermabile, bloccabile, ma è stata fatta in tempi troppo istantanei, troppo veloci. I fanatici servivano tempi più lunghi, metodi più saggi, magari un po' di dazzi, magari un po' di saggezza e saremmo stati meglio tutti. I fanatici hanno aperto il vaso di Pandora liberando forze che adesso non riescono più a controllare.